Sì, mi dica lei come facciamo a dirci soddisfatti. Vede, a noi risulta che dal 2011 al 2016 le adozioni internazionali siano crollate del 50%, passando dalle oltre 40.000 a poco più di 2.000. A questo aggiungiamo che le autorità della Bielorussia nel 2015 avevano bloccato le adozioni, non ottenendo gli opportuni riscontri da parte della Commissione per le adozioni internazionali. La nomina della Boschi avrebbe dovuto risolvere la scarsa efficienza di quella Commissione, ma così non è stato. Inoltre dovete ancora firmare l'elenco dei bambini bielorussi che le famiglie italiane sono disponibili ad adottare. Ad oggi, caro Ministro, se non lo ricorda glielo rammento, sono 150 le famiglie che attendono i vostri comodi. E riteniamo poi sia utile non sorvolare su un'altra questione che è rimbalzata anche agli onori della cronaca, quella relativa ad un'inchiesta giudiziaria che coinvolgerebbe la Vicepresidente Silvia della Monica, che, ci dice la stampa, sarebbe accusata di aver spedito dei suoi collaboratori negli orfanatrofi di Goma per prelevare dei bambini, pare contro la volontà dell'autorità del Congo. Ora pare che l'inattività della Commissione, nel corso della Presidenza Boschi per le adozioni internazionali, si debba ricondurre ad una incompatibilità caratteriale fra il Ministro Boschi e la Vicepresidente Silvia della Monica e che anche lo stallo attuale affondi le radici in questa sorta di duello. Peccato che a pagarne le spese siano quei bambini in attesa di adozione, a cui negate un diritto sacrosanto, il diritto di poter essere accolti da famiglie che li attendono e che sperano di poterli crescere. Famiglie esasperati, esasperati soprattutto dalla vostra superficialità che resenta la cialtroneria istituzionale.